Musica Salve a tutti ragazzi sono Inazoomandra e quest'oggi sono qui sul canale con un nuovo video Nonostante le mie pubblicazioni siano state altalenanti nell'ultimo mese ho intenzione di riprendere il ritmo Anche se adesso molto meno tempo di prima In questo video parleremo di Detoshi Nakata Uno dei migliori se non il miglior giocatore giapponese di tutti i tempi Lesser Lord lo ha fatto comparire in vari anime e manga come Zatch Bell, Oli e Benji o Detective Conan In essi avrà quasi sempre un ruolo marginale O direttamente come Easter Egg, come giusto che sia Ma in Azuma Eleven cambierà questa striscia di apparizioni da comparsa e in esso diventerà un personaggio di rilievo All'interno di Zatch Bell avrà il ruolo di insegnante di matematica comparendone il manga nel 10 gennaio 2001 Quando il giocatore militava nella Roma Appena uscito da una splendida stagione con il Perugia nella quale segnerà 12 reti in 47 partite L'unica caratteristica in linea con l'ex calciatore sono i vestiti che ricordano molto più che vagamente un allenatore di calcio Che abbiano provato a prevedere il futuro sbagliando miseramente In Oli e Benji avrà solamente il ruolo di Easter Egg comparendone esclusivamente nel manga Non si sa né in quale momento né in quale numero specifico del manga Ma grazie ad una foto di un lettore giapponese possiamo chiaramente vederlo Anche in Detective Conan avrà il ruolo di semplice Easter Egg Comparendone il film L'undicesimo Attaccante Nel 14 aprile del 2012 Quando ormai avrà già terminato la propria brillante carriera Rappresenterà i Tokyo Spirits con la maglia numero 16 Durante la partita verrà afferrato per maglia da un avversario Un personaggio dal nome sconosciuto di Bigosaka In essa verrà chiamato più volte Idetoshi Nagata E quasi sicuramente perché il giocatore non aveva stipulato alcun contratto E finalmente possiamo passare di Nazuma Eleven il fulcro di questo video Vorrei ricordare ancora una volta che Nazuma Eleven è l'unico anime in cui Nakata ha trovato davvero tanto spazio Il primo ottobre 2009 verrà inserito nel secondo titolo per Nintendo di tale anime Risultando per giunta il miglior giocatore in base alle varie statistiche Inoltre è considerato il personaggio più difficile da reclutare dell'intero gioco Dal 10 luglio in poi potremmo usarlo all'interno di Nazuma Eleven 3 Dove sarà tra i 5 migliori attaccanti e tra i migliori 6 centrocampisti offensivi Diventando un elemento chiave in quasi tutte le squadre del gioco Il 10 novembre 2010 farà la sua prima comparsa nell'anime Subentrando nella partita Giappone-Italia dell'episodio 106 Da questa puntata riusciamo a farci un'idea del carattere del capitano dell'Italia Infatti Detoshi è ragazzo tranquillo e sicuro di sé Sa sempre cosa fare e non perdeva il controllo delle proprie azioni È un ottimo capitano che sa come sfruttare bene dei propri compagni Per questo è molto amato dalla propria squadra, l'Orfeo Esce a capire al primo sguardo i punti di forza e i punti di debolezza delle persone Intuendo anche alcuni problemi dell'Inazuma fin dalla partita contro l'Australia Ha un ottimo rapporto con Paolo che prende il suo posto come capitano quando lui non c'è E spesso lo aiuta e lo consiglia dicendogli cosa fare È sempre in compagnia del suo amico Luca Ed è anche molto legato alla nipote di Ray Dark Infine spesso spie le partite dell'Inazuma Japan Nei giochi posti in Azuma Eleven 3 Detoshi Nakata però non sarà presente Poiché il contratto siglato tra il giocatore reale e la level 5 È terminato prima dell'uscita dei successivi titoli In Inazuma Eleven Detective Conan Di Detoshi ha la pelle piuttosto oscura e occhi neri con le sopracciglia marroni I capelli sono rasati fino alla parte bassa della testa Mentre sulla sommità ha corti capelli bruni Praticamente ha lo stesso aspetto che si ritrova nella realtà Bene ragazzi il video termina qui Non trovo nessun'altra apparizione di Detoshi in anime e manga Se ci fossero scrivetemelo nei commenti Un saluto da Andrea e ci si vede con un prossimo video